Miei carissimi milanesi ben ritrovati, bentornati a un nuovo appuntamento, anche quest'oggi parleremo di politica ma non solo perché il nostro ospite questa sera è un personaggio interessante perché racchiude in sé tante caratteristiche che fanno di lui un milanese doc per eccellenza. Sigla. Miei carissimi milanesi eccoci qua con il nostro ospite questa sera Mattia Abdu Ismail giusto? All'anagrafe così tutto. All'anagrafe c'è anche Ibrahim che è il secondo nome. Ah, Mattia Ibrahim Abdu Ismail. Esatto, è complicato ma basta dire Mattia. Milanese doc perché, a parte tutto quello che poi capiremo, F205. Sul codice fiscale F205. Quindi tutti quei gruppi F205, fateci l'abitudine. Perché è così, è così che funziona Milano. Milano abbiamo avuto gente che era milanese da dieci giorni, gente che era milanese da sempre, tu nato a Milano da sempre. Milanese doc. Milanese doc. Ovviamente, quante volte ti hanno chiesto, Mattia? Ma ogni tanto mi chiedono, ah ma lo parli bene l'italiano? Ti sei ambientato bene? Guarda, veramente parlo solo quello nel senso, no io in realtà parlo anche abbastanza bene il dialetto milanese, lo capisco benissimo. Ottimo. Ma perché mia mamma, che era milanese, amava ascoltare tra le tante canzoni quelle di cultura popolare di Nanni Svanza. Ah, vedi, vedi, vedi. Quindi io ho delle bellissime, ho ancora le cassettine, le musicassette, perché io che sono figlio del 1981, diciamo, ai nostri tempi si usava, e mi sento molto anziano a dire questa cosa. Però il problema adesso è che le questioni devono ascoltarle. Poi tornano di moda, insomma. Comunque, avevamo tutte queste musiche di Nanni Svanza, quindi insomma, in realtà ho assorbito una bella fetta di cultura popolare lombarda milanese e per me questo è bellissimo, perché, insomma, io dico sempre, non per conoscere il futuro e la contemporaneità, devi sapere da dove si arriva, ecco. Tanto la conosci bene Milano e tanto l'amma bene Milano, che Mattia, oltre ad essere appunto un milanese doc, come adesso lo racconteremo, è anche il presidente del Municipio 1, quindi ti abbiamo chiamato anche per quello, non solo perché sei un ottimo gelataio, non più, ormai, abbiamo venduto, hai dismesso, perché il papà era stanco, come dire, abbondantemente in età di pensione, quindi l'ho obbligato a riposarsi. E devo dire, quando fai il consiglio di municipio, così, come consigliere, rischia di essere un buon dopo lavoro e poi conciliare. Se inizia a fare l'assessore, come ho fatto io, e adesso il presidente, come dire, hai un grado di responsabilità, di tempo a dedicare, mi permetto di dire anche, come dire, un emolumento, insomma, commisurato, che non permette di fare altri lavori, quindi ho fatto una scelta nella vita, in questo momento della mia vita, poi vedremo, di seguire questa cosa. Dopodiché, però, un mestiere lì, una saccoccia ce l'hai, volendo, si sa mai, hai anche una laurea in urbanistica, in saccoccia? Sì, infatti, a volte rifletto, ma no, perché sai, domani, in realtà, non penso mai di tornare al lavoro del commerciante, perché è una cosa che, insomma, facevo con la mia famiglia, ma che non era in quel momento, non era tanto la mia aspirazione. Io sono, come dicevi tu, appassionato di urbanistica, tant'è che è stato diventato il corso di studi, la ragione dei miei studi, e devo dire, oggi, però, proprio perché non è architettura, è urbanistica, è pianificazione territoriale, oggi, dopo questa lunga esperienza, che peraltro non è finita, quindi non poniamo limiti, come si dice, la provvidenza, però in futuro... Non intervista la memoria, no, no? No, appunto, però, nel senso, in futuro, penso che più tendenzialmente mi interesserebbe, se dovessi smettere di fare politica, cosa che non so oggi, ma per ora non intendo fare, anche perché il mandato poi va avanti fino al 2027, quindi iniziamo ad arrivare vivi al 2027, e poi comunque avrei una preparazione, dopo tanti anni, perché io sono consigliere di zona, si chiamavano allora dal 2007, e quindi credo che continuerai a lavorare nella pubblica amministrazione, anche magari, non è detto che si faccia da politico, si può fare da tecnico, Infatti, ma poi soprattutto la tua, non è solo la fine di un percorso di studio, è proprio una passione, perché voi dovete, questo retroscena, questo backstage che vi racconto, appena è entrato nel nostro studio, che chi ci vede in versione video sa essere cerchiato di... Io li chiamo plastici, come si chiamano? Diorami, no? No, 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 li chiamano plastici, plastici di alcuni pezzi di Milano, tra cui mi hai scoperto anche, c'è un pezzino di legno che è casa tua, Ho riconosciuto casa mia, c'è casa tua, no? Vicino allo Scalofarini, devo intenderci, tu ti sei proprio appassionato, hai detto no, ma che bello, quindi per te non è solo appunto uno studio, oppure ho trovato cosa fare, ma è proprio una passione. Allora, vi denuncio una mia follia, che poi questo fa capire... Domanda, hai iniziato anche tu con SimCity, oppure... Non ho iniziato, ma ho molto, mi sono consumato occhi e mouse giocando a SimCity, no, io ho iniziato peggio, ho iniziato negli anni 80 e 90, se qualcuno si ricorda, e alla fine dell'anno le portinerie, chi aveva la portineria, si accumulavano le pagine gialle, le pagine bianche e i tutto città, le mappe che avevano tutte le tavole di Milano. Io facevo in Cetta, in tutte le portinerie vicine conoscevano la mia pazzia, facevo in Cetta di tutto città, e sui tutto città disegnavo i percorsi dei tram, che è la mia prima vera passione. Io sono un nerd dei tram e da quando ho sei anni circa, dai sei ai 42, conosco a memoria, ma a memoria, cioè a livello i patologici, tutti i percorsi di tutte le linee tramviare di Milano, e poi nel tempo ho imparato anche un po' gli autobus, però gli autobus sono una cosa proprio da sfigati. Ma non mi so dire la memoria, no, poi mi sono fatto la cultura sulla storia, quindi ho tutti i libri del passato, dalla fine dell'Ottocento a oggi, tutti i percorsi tramviari di Milano, che sono intimamente legati, se volete, alla storia, sono iconici, ma proprio legati alla storia dello sviluppo della nostra città. Scoprendo questa cosa, possiamo mandare la sigla finale, io e Mattio ci andiamo a fare un giro perché ho scoperto che abbiamo una passione in comune. Io treni e tram... Però tu ti ha messo male come me. Non so, sei andato in Svizzera a vedere il museo dei trasporti di Lucerna? No, vedi, però io sono andato, ho visto il museo, quello di Budapest, che è molto bello. Quello dei tram, sì, so che esiste. Poi ho visto un bellissimo museo dei tram, anche in Inghilterra, dove sali proprio sul tram a due piani, che fa tutto un giro della valletta intorno al museo. Va bene, avremo di cui parlare dopo questa trasmissione, allora. Torniamo un po' su una cosa che a te l'inizio, però appunto, ti chiedono a volte, ti dicono, eh però lo parli bene in italiano, che poi non chiudono la frase, perché parli bene in italiano per... Perché poi capiscono che non sei arrivato ieri qui, che sei nato qui. Quando gli spieghi che sei nato qui... No, tra l'altro per me è una mancanza, io vorrei parlare un po' di arabo, perché il papà è egiziano e avendo io... Tu non sei nulla di arabo? Io praticamente no. Neanche le parolacce? Sì, un paio di parolacce, di insulti, sì, ma per ridere, però non sono in grado di parlare, di fare una conversazione. Questo mi dispiace perché, insomma, se vado giù in Egitto, capita una volta ogni tre, quattro, cinque anni, a trovare la famiglia di mio papà, diciamo, vorrei avere un dialogo maggiore, mentre invece mi devo sempre avvalere di qualche cugino che parla l'inglese o di qualche parente che lavora qui in Italia. Però, oggettivamente, essendo io cresciuto, nato e cresciuto qua, tra l'altro, in una merceria, perché mia mamma aveva dall'81, cioè, no, dall'81, dagli anni 60 fino all'87, ha gestito una piccola merceria in via Marsala, quindi dietro Corso Garibaldi, quindi un piccolo negozietto di prossimità, di quartiere, e quindi sono... È lì che ha conosciuto il papà? È lì che ha conosciuto il papà che lavorava, è venuto in Italia di papà. Molto curioso, perché è bella questa storia. No, no, ma è una bellissima storia. Adesso poi, non devo darmi segni quando sto parlando troppo. Diciamo, lui è venuto in Italia nel 76, ha trovato lavoro in una ex-latteria, trasformata in trattoria, come andava a quell'epoca, di fianco, proprio di fianco alla merceria, lì divideva il portone del palazzo, e mia mamma la sera andava ad aiutare lì. Andava ad aiutare lì, ha conosciuto questo ragazzo, e ad un certo punto il ragazzo non è più venuto a lavorare, loro già si uscivano, si frequentavano. C'era il filarino, come dicevano. C'era il filarino, ma lui si era malato, aveva un'influenza molto pesante, e lei, per preoccupazione che nella casa in cui fosse solo abbandonato, facesse una brutta fine, se l'è preso in casa. E mio papà da quella casa non è mai più uscito. a un certo punto sono nato io, che ero frutto del peccato, sto scherzando ovviamente, poi diciamo negli anni 80, mio papà si sono sposati, poi ha preso la cittadinanza italiana, ed è una storia di... perché poi c'è un altro capitolo, che è il capitolo in cui nell'83 sono riusciti ad aprire un ristorante insieme, fatto sostanzialmente con tanti prestiti di amici che frequentavano il ristorante originario, e siccome sapevano che il sogno di mio papà era aprire un ristorante, hanno fatto quello che si potrebbe dire, un crowdfunding antelitteram, e loro nel giro di un anno, un anno e mezzo, hanno refuso tutti gli amici che gli avevano prestato, perché gli servivano 100 milioni di vecchie lire per aprire un ristorante, e chi un milione, chi 10, chi 5, chissà che amici ricchi, no, però fanno parte di un'altra epoca, un'epoca in cui i sogni, se volete qualcuno riusciva a realizzarli, oggi mi piacerebbe che Milano, che ha tanti problemi, ha tanti problemi con l'immigrazione, come tutto il resto d'Italia, però potesse ancora dare delle possibilità a tante persone, che vengono qui per farsi una vita, non perché per forza scappano dalla guerra, scappano nella ricerca di un mondo migliore. Ancora una riflessione sul discorso di immigrazione, poi andiamo avanti, perché tu non sei solo quello giustamente, però il racconto che si fa spesso sono altri, cioè noi quando parliamo di immigrazione, parliamo dei quartieri disagiati, delle famiglie disastrate, che vivono quei quartieri, della delinquenza, però insomma tu sei la prova provata, che invece ci sono anche altri tipi di storie, non credo tu sia l'unico a Milano ovviamente. Anche se la storia della mia famiglia è figlia di una città molto diversa, una città che se volete, per modo di dire si stava ancora... Io immagino la faccia di... Cioè io vorrei sapere la nonna, quando vide tuo papà per la prima volta. La nonna non lo vide mai, nel senso che fate conto che mia mamma, qui però abbiamo un altro elemento di grande, per me pazzesco di emancipazione, mia mamma, che aveva otto anni più di mio papà, era una donna fresca, divorziata, con due figli grandi. Mia mamma ha avuto un figlio a 16 anni, uno a 18 e poi uno a 39. Pensate, una donna che ha 37 anni, conosce un egiziano di otto anni più giovane. Nel 1977-78. Allora, più che per la famiglia, per tutto il quartiere deve essere stata una cosa da chiacchiera, da pettegolezzo. Oggi penso che mia madre fosse una... Lo dico io? Una figa? Una figa? Volevo suggerirtelo io. No, però a parte le battute, è una storia di una città, tra l'altro una città che usciva dagli anni di piombo, dove ancora i quartieri del centro, io vi parlo di Corso Garibaldi, cioè Corso Garibaldi era un quartiere popolare, ma popolare, popolare, dove c'erano anche quelli che erano usciti dalla galera per gli anni di piombo e robe così. Cioè era un'altra città, ed era una città dove però c'era più voglia di costruire. All'epoca, come dire, gli immigrati erano gli immigrati del sud Italia. Per cui, insomma, però era una città che forse aveva meno il distacco ricchi e poveri, no? Cioè c'era una minore polarizzazione dal punto di vista delle differenze. E quindi forse c'era ancora lo spazio, e poi non c'era questa polarizzazione estrema tra parte ricca e parte povera, tra centro e periferia, come si dice. Quindi era una città molto più in ebollizione, in evoluzione, nel bene e nel male. Ok. Torniamo invece al presidente o meglio, a quello che... Un'altra istituzione, cos'era? A febbraio di quest'anno, il presidente del Senato, la russa, disse che, insomma, se mio figlio dovesse dirmi che... Ho già capito dove vuoi arrivare. Se mio figlio disse che figlio gay, beh, mi dispiacerebbe quanto come se fosse milanista. Mi stai facendo fare outing, che sono gay milanista. Perché lui è interista. Io sono gay milanista. Infatti, non tanto che hai fatto che sei gay, ma che sei milanista. Quella è una cosa che forse la russa avrebbe fatto più... Seguo il calcio... E anche, mi direbbe a dire, adesso uso la parola vecchia, anche comunista. Anche così. No, se lo dice a un comunista si offende. Diciamo che sono un democratico. Sono un sincero democratico, sì. Non sono musulmano. Ah, ecco. Da questo punto di vista... C'è sempre tempo... Poi sempre volendo... Sconvolgo solo in parte le certezze leghiste. No, però... Guardate, adesso al di là delle battute, io devo dire la cosa che più mi impensiona del calcio sono le partite, diciamo, di Oliver Atto. Ok, perfetto. No, però vabbè, sono milanista. Ti sai che hanno cambiato nome? Non si chiama più. Capitan Zupasa. Io sono abbastanza un esperto di anime e manga. Questo è un altro capitolo. Non mi provocare sul fronte giappone. No, no, lì... Anime e manga giapponesi, perché sono abbastanza... Io abbandono lo studio e chiamo Cristina, la social media, che so essere molto più uno spesso di me. Io sono molto appassionato. No, però, scherzi a parte, seguo vagamente il calcio e vagamente sono milanista. No, però lì ci fu una battuta perché ci fu un giornalista amico che disse, senti, ma io posso dire questa cosa, che sei l'annemesi della famiglia La Russa. Io gli dico, guarda, credo che la famiglia La Russa abbia molto... Ho un contatto con la famiglia La Russa. Ho un contatto perché il figlio, il secondo figlio La Russa è il capogruppo di Fratelli d'Italia da noi e poi conosco Geronimo perché abbiamo più o meno, più o meno, che è il primo figlio presidente del LACI, adesso fresco, nominato CDA piccolo, non so se è CDA del piccolo, qualche comitato del piccolo, ecco. e lo conosco perché abbiamo la stessa età e venendo dalla Milano del centro, della stessa epoca della Milano Bene, quella che noi fuori dalla circonalazione che cambiano bene. Avevamo tra liceo e università, giri di amici sovrapposti, e poi perché quando io sono entrato in consiglio di zona nel 2007, lui ne era appena uscito nel mandato precedente, quindi insomma sì. Tema dei diritti che è un tema a Milano molto caldo. Ti ha visto montagne russe però proprio, anzi rimanendo il tema della russa, montagne la russa, che è su e giù, si è fatto tanto ma poi si è dovuto tornare indietro, è stato chiesto di tornare indietro ad esempio sulle trascrizioni dei figli omogenitoriali. Ma sapete, quelle cose lì sono legate comunque a una normativa nazionale, quindi per quanti comuni possano prendere delle iniziative e poi comunque siccome io ho imparato in tanti anni, uno dice faccio politica, mi eleggono nelle istituzioni, cambio il mondo, poi impari che dalle leggi Bassanini in poi l'amministrazione si divide in parte politica, che dà l'indirizzo politico e le scelte, ma la parte tecnico-amministrativa che attua leggi, regolamenti e trasforma l'indirizzo politico in azione concreta. A volte se l'indirizzo politico in qualche modo contrasta con un impianto di legge che notoriamente nel nostro paese è carente e non perché ci sia chi vuole diritti, diritti per i figli, è che noi ci dobbiamo porre il tema dei figli nati, già nati, che devono essere tutelati anche dal fatto che a volte le storie finiscono. E poi chi provvede ai figli? Solo il genitore naturale? No! Paradossalmente deve provvedere anche l'altro genitore, genitore 1, genitore 2, come li chiamava qualcuno. Allora le battaglie che si fanno che il Comune di Milano, che il centrosinistra, che il Partito Democratico in questi anni hanno fatto su questo tema riguarda proprio la necessità di tutelare sempre i minori che vanno sempre tutelati a prescindere dall'orientamento sessuale delle coppie e quindi se possiamo dare una possibilità che li tuteli maggiormente per questo facciamo le battaglie. Poi in realtà Milano è stata tante altre cose, è la città dell'accoglienza, tanti ragazzi, tante persone vengono qui appunto lasciando degli altri contesti e quindi insomma credo che... Forse ci diventiamo questo, c'è gente che deve lasciare dei contesti solo perché gay? Beh, allora tendenzialmente poi in realtà è il lavoro, è lo studio, è la voglia di scoprire forse un mondo anche più ampio. Cioè io sento, ma mi ricordo all'università metà dei miei compagni erano fuori sede, adesso al di là che fossero gay o etero, cioè il tema è che spesso è ovvio che la grande città, la città metropolitana, nel bene e nel male rappresenta tante occasioni in più, cioè tante volte oggi le sfide di governo del territorio, qui scusate se faccio l'urbanista, ci chiedono, chiedono gli amministratori locali, ma così come ai parlamentari, degli investimenti, non tanto solo nella grande città, ma nel territorio, nel territorio diffuso, il nostro paese, l'Italia, è il paese del campanile, come si dice, è la provincia, una grande provincia, e poi qualcuno di questo ha fatto, come dire, investimento scientifico, se volete, una degli attacchi maggiori che noi facciamo al centro-destra è proprio quello di fregarsene delle grandi aree metropolitane che spesso, guarda caso, sono governate dal centro-sinistra per investire, ma senza strategia, solo a fini elettoralistici, sui campanili, perché si tengono buoni quell'elettorato, ma sono quelle dinamiche che se volete riguardano anche gli Stati Uniti, stati in cui aveva vinto Biden contro Trump, vedevi poi la diffusione del voto, c'era un'enorme grande città ai democratici che polarizzava il risultato e il contado, la campagna cosiddetta che votava tutto Trump, ecco, la sinistra deve fare in modo che i diritti marcino tutti insieme e che non riguardino solo un'elite, se no non è una sinistra. Gaver diceva che cos'è la destra e cos'è la sinistra, ti sei riuscito a dare una risposta a questa domanda? Sì, me la sono data, devo dire, con l'esperienza. Una risposta che avevi già da sempre? No, io sono cresciuto con un'idea, sono sempre stato di sinistra, ho respirato questo in casa, se volete, però diciamo, ripenso a me, teneramente, quando facevo al liceo il rappresentante degli studenti o all'università, il consigliere di facoltà, avevo una divisione del mondo, poi ho scoperto che ci sono tante sfumature, e però ho toccato con mano, se volete, che poi a volte la differenza non è tra destra e sinistra tra mediocrità e concretezza, però esistono degli ideali, ma non solo degli ideali, un approccio concreto ai problemi delle persone che a sinistra probabilmente è molto più macchinoso, molto più complicato prima di ottenere delle risposte, a volte dobbiamo scindere l'atomo e scindere noi stessi in 25 correnti e partiti, però questo riflette il fatto che problemi difficili non hanno risposte facili e chi dà risposte facili in realtà non dà delle risposte e questo è il grande attacco che noi facciamo alla destra di oggi. Hai quell'età giusta secondo me per cominciare a riflettere anche sulla città in cui vivi giustamente, per cominciare a comprendere. No, non sei di te troppo vecchio di te troppo giovane hai l'età dell'esperienza nel mezzo del cammino di nostra vita. Tiro l'acqua al mio mulino e mi hai la stessa età quindi capisci che devo tirare l'acqua al mio mulino. Esatto. Fino adesso, fino ad oggi quante Milano hai visto? Quante Milano hai vissuto? Beh, allora io amo Milano cioè sono uno di quelli che va in vacanza e purtroppo da milanese imbruttito sente la nostalgia della sua città e quindi dici oddio quando non vedo l'ora di tornare poi ovvio che ti godi le vacanze. In vacanza in Maggioline vai. Pazzesco. No, no, poi un'altra puntata facciamo dove vado in vacanza io perché non è proprio anche quello normalissimo ma va bene. Comunque no, io ho vissuto ho vissuto le Milano politiche sicuramente perché le ho vissute da amministratore perché vi ho detto che ho cominciato a 25 anni a fare consigliere di zona nel 2006 e 6 e quindi ho vissuto le varie fasi del centro-sinistra all'opposizione alla guida di Milano con tutti i passaggi da Pisapia a sala 1 a sala 2 e poi ho vissuto però anche la città da milanese quindi io da piccolo obbligavo mio padre che avendo il ristorante non vedevo durante la settimana a fare che cosa la domenica cioè io più che obbligarlo io chiedevo mia madre l'obbligava a fare le gite in tram da capolinea a capolinea però oggi ripensando con tenerezza a questa cosa mi ricordo che ho visto visitavo Milano che se volete ma non il Duomo il Cenacolo Vinciano o il Castello Sportesco anche ma visitavo Piazza Tirana perché prendevamo l'otto che all'epoca andava in Piazza Tirana o il 33 a Roserio allora però faccio questa battuta per dire sostituito adesso dal sostituito dal 12 e dall'1 fantastico perché il 33 va in Piazzale Lagosta e al posto del vecchio 11 però se mai faranno un Sarabanda sui tram io ti scrivo esattimo da piccolo mi vogliono scrivere scommettiamo che poi non hanno avuto il coraggio per fortuna no però ho visto tanto Milano tra l'altro io ho fatto le scuole medie alla media Manzoni che era l'unica media civica comunale di Milano e non avendo il bacino noi avevamo compagni di classe che venivano da tutta Milano quindi io da piccolo andavo a fare i compiti a casa dei miei compagni alla Barona che è sano per uno che abita in centro posto che Garibaldi era un quartiere popolare ma già alla fine degli anni 90 cominciava il processo si direbbe in ambito urbanistico di gentrificazione quindi cominciavamo a infighettirci tra virgolette da popolare a pop magari ho visto tante Milano e ogni quartiere io tra l'altro nell'ambito adesso mi spengo giuro nel PD perché sapete che sono insomma facendo politica sono anche iscritto e sapiamo che anche dei difetti esatto nel PD seguo tra le altre cose sempre tutti i processi i passaggi congressuali primari eccetera organizzare le primarie a Milano per il Partito Democratico significa mobilitare migliaia di volontari ma anche organizzare i seggi fare 100 120 seggi quando facciamo le primarie vuol dire conosci mi permetto di dirlo perché è una roba che seguo spesso quasi solo io per cui dal punto di vista logistico vuol dire organizzare la capillarità di dove metti i seggi per far votare le persone e richiede che conosci i quartieri ma non è un vanto lo dico perché è quasi una roba come dire che ha dei profili professionali infatti a volte diciamo il giorno che la destra decide di fare le primarie a Milano una professione che non svolgerei io per evidente conflitto di interessi potrebbe essere organizzargli dal punto di vista scientifico e quindi professionale l'organizzazione delle primarie perché significa conoscere i quartieri e sapere cosa significa la capillarità che è il famoso discorso della città a 15 minuti di cui parlava sempre il sindaco a proposito di sindaco lo salviamo per cosa lo bocciamo per cosa io se boccio il sindaco è un problema perché sa qualcosa che però un po' sì io credo allora faccio così lo salviamo per cosa lo rimandiamo perché cosa rimandiamo a settembre perché cosa no allora lo salviamo sicuramente perché ha proseguito il lavoro iniziato con Pisapia e ha riposizionato secondo me splendidamente Milano al centro della scena italiana ed europea internazionale soprattutto portando questa città ad essere una delle più grandi città turistiche attrattive in termini di investimento di potenzialità ma in tutti questi processi quindi per me non è neanche colpa di sala ma governarli è difficile e forse non ci stiamo riuscendo in maniera soddisfacente anzi senza il forse per me a fare sì che questa trovata che questo insomma ha cresciuto vigore centralità e forza non lascia indietro nessuno cosa che invece succede perché si ampliano si amplia la forbice delle differenze del divario oggi che si parla di emergenza sicurezza per me da una parte politica in maniera strumentale però lo si fa non considerando che dove c'è benessere dove c'è ricchezza si attirano anche banalmente i traffici illegali ricordiamoci sempre che la Lombardia tanto magnificata qui sì dal centro-destra è diventata una delle regioni più infiltrate dalla mafia perché la mafia e la delinquenza vanno dove c'è benessere perché devono rubare beh sì ma niente niente mi faccio mandare un goccio d'acqua dalla regia no ok hai nominato l'hai nominato due volte quasi quanto l'hai nominato i tram Pisa Pia Pisa Pia ti manca? mi manca quell'epoca beh sapevo che sareste arrivato qua io conosco Giuliano lo stimo infinitamente e per me rappresenta il sindaco del riscatto perché la vittoria con Pisa Pia non era per niente scontata il doppio accomaleno che se lo dimentica venivamo da da vent'anni di destra e quindi per noi è qualcosa che soprattutto noi che facciamo politica e nelle istituzioni ci ha segnato profondamente mi manca forse quell'ingenuità con cui tanti di noi in quel momento hanno pensato un po' di cambiare il mondo però Dio mio se non si fa io cioè perché uno fa politica perché vuole cambiare il mondo cioè lo dico proprio nella banalità su questa stessa sedia tu si è seduto Roberto Biscardini che è un altro politico di molta più vecchia data di te che ha detto praticamente la stessa cosa quindi insomma sì allora lì avevamo veramente una città per noi da ribaltare come un calzino perché c'erano ma perché io penso che quando governi per tanti anni lo stesso territorio rischi di pensare che sia casa tua invece no è casa dei cittadini quindi devi stare attento a non sederti sulla responsabilità che ti è stata assegnata dal mandato elettorale quindi io faccio incazzare tantissimo gli amici di Sesto San Giovanni di Cinisello quando gli dico avete governato per 60 anni i vostri comuni vi fa molto bene stare all'opposizione poi dicono eh no ma i cittadini io dico è vero poi i cittadini magari ci smenano se un sindaco non è bravo di destra però però l'alternanza democratica è anche questo eh ecco la sinistra deve stare attento che così come è finita in maggioranza si può sempre tornare all'opposizione io dico sempre e spiego ai miei consiglieri di municipio con un pochino se volete di paternalismo non fate all'opposizione quello che non vorreste vi venisse fatto se all'opposizione ci steste voi la politica è da sempre affascinato da sempre fin da piccolo com'è che è nata questa passione per la politica allora è nata da mia mamma perché mia mamma come diceva mio papà doveva fare il sindaco lo dico ridendo mia mamma non era laureata non era di grande cultura ma di una cultura fatta da una che aveva lavorato tutta la vita no che a 15 anni in un'altra epoca storica perché vi parlo del 58 si è trovata mamma si è sposata si è rimasta incinta si è sposata all'epoca i bambini nascevano di 7 mesi per far quadrare le date del matrimonio oggi lo dicevano ridendo per quando il bimbo settimino nasceva di 3 chili e 8 4 chili e mezzo c'era qualcosa che non tornava detto questo dette le battute però mia mamma mi ha passato sicuramente ho imparato da lei quella capacità di indignarsi di non essere soddisfatta delle cose che non funzionavano di non saper stare zitto è un po' di vispolemica anche se volete la sagaccia milanese non so come chiamarla quindi già dal liceo anzi dalle elementari perché mia mamma faceva la rappresentante di classe alle elementari in una classe che stanno bastioni di Porta Nuova stanno in questo quartiere a metà tra ricchi e poveri noi avevamo un pezzo della classe che erano i figli dei laureati e un pezzo della classe che erano i figli dei custodi dei portinai del quartiere e mia mamma che come dire lavorando tutta la vita aveva recuperato qualche risorsa ma aveva battuto tutta la vita con i debiti con le difficoltà ma si era un po' emancipata ed era una piccola commerciante faceva la merciaia forse riusciva a mediare ad avere la visione di entrambe le situazioni e ha costruito la mediazione politica adesso la dico in maniera alta fin dalle scuole io questa cosa l'ho assorbita e ricordo all'elementare abbiamo messo in piedi un lavoro con le maestre per riqualificare il giardinetto che venne inaugurato nel 91 dalla loro sindaco Piliteri quello attaccato alla nostra scuola e poi da lì al liceo mi sono candidato rappresentante in consiglio d'istituto all'università poi Savasandir e poi gli allora DS sinistra giovanile perché non c'era ancora il PD mi proposero la candidatura in consiglio di zona la quale candidatura veniva già da un'esperienza di mia mamma che aveva fatto all'epoca si chiamavano esperti partecipava alle sedute del consiglio di zona come diciamo consulente perché era presidente dei commercianti di Corso Garibaldi allora c'è sempre questo tema del cercare di cambiare le cose la cura per il proprio quartiere si capisce che le cose si possono cambiare non perché c'è qualcun altro che ne cambia ma perché non ci giriamo dall'altra parte quindi il contrario di una vita individualista infatti chiarissimo hai nominato spesso anche altri sindaci no? mi hai detto se ci dovessi salvarne uno prima di Pisapia chi salviamo? ma salvo Formentini perché mi hai colpito hai colpito con questa risposta no vabbè insomma Moratti ha fatto delle cose non mi aspettavo Moratti ma su Albertini ma che pensavo che potrebbe essere no io invece vorrei fare un ricordo del sindaco Formentini perché il sindaco Formentini prese la città nell'epoca nel 94 vincendo un ballottaggio contro Nando dalla Chiesa che peraltro è un amico che conosco insomma con cui abbiamo lavorato in questi anni ma prese la città che veniva travolta dagli scandali dell'era Mani Pulite la coda lunga non tanto di Tognoli quanto forse se volete più di Piliteri e poi del sindaco Borghini sindaci comunque che hanno fatto la storia della nostra città in una fase di forte sviluppo perché gli anni 80 Milano la Milano la bere la moda ma poi anche gli scandali no? allora c'era il bene c'era il male ed era la città delle opere incompiute ricordiamoci che quando Formentini diventa sindaco abbiamo il passante ferroviario che era una chimera in ballo da vent'anni e che poi era alla fine del mandato Formentini inizio Albertini viene inaugurata la telenovela infinita del teatro dal verme la telenovela infinita del piccolo teatro Streller che poi intitolato a Streller che non era mai finito era un cantiere interminabile la Sagrada Famiglia di Milano la Sagrada Famiglia di Milano più tutta una serie di altre robe allora la capacità e il tentativo se volete un po' anche no? da soldati da da indiani pelle rossa che conquistano il fortino ai cowboys che aveva avuto la Lega in quel momento al di là delle retoriche su Roma Ladrona che non erano le mie però sono patrimonio della storia italiana le battaglie della Lega della prima ora la Lega che era più sinistra forse di alcuni partiti di sinistra su alcune robe su alcune robe sì prima di diventare un partito confensionale a tratti razzista eccetera c'era un razzismo un po' un po' ignorante un po' cialtrone ma anche un po' con la voglia di cambiare le lentezze di questo paese e in quel momento Milano rimise in moto una serie di processi di cui poi beneficiarono le giunte Albertini e che e che poi vennero ancora trasformati perché la giunta Moratti i più grandi problemi della giunta Moratti erano che avevano delle idee ma che erano diverse da quelle della maggioranza che le aveva elette per cui su quello la Moratti si schiantò chiarissimo Mattia siamo arrivati alla fine c'è qualcosa che non ci siamo dimenticati che secondo te andrebbe raccontato se vogliamo raccontare Mattia Abdu ma sì che invecchiando sto diventando un pochino meno incazzoso cioè dicono tanto di me adesso è un momento confessionale tu non sei cazzo sei sarcastico no dicono tutti che ho un pessimo carattere che sono un iracondo quindi io ho deciso ho fatto questo fioretto soprattutto da quando faccio il presidente che devo smettere di dare l'allibi del mio brutto carattere alla mediocrità altrui perché scusate la tocco piano a me si dice questi casi passivo-aggressivo come si dice esatto devo imparare a diventare un po' più passivo-aggressivo e meno aggressivo e basta nel senso che a volte ho capito che per risolvere i problemi tanto come dire incazzarsi non serve a niente ci vuole pazienza soprattutto nella pubblica amministrazione ci vuole pazienza costanza perché ho capito che se ti incazzi e le cose non dipende i processi non dipendono da te ma dipendono da qualcun altro la tua incazzatura dà solo la scusa per non risolvere i problemi quindi devo imparare con la vecchiaia no scherzo non lo dico più perché se no ti offendi anche tu perché noi siamo siamo giovani io mi sento vent'anni ma non so dici mi senti vent'anni però dici anche che sei vecchio inizio a sentire è la crisi di mezz'età sì un po' sì poi ecco una quota che ti manca è che sono diabetico malatto cronico da quando ho sei anni quindi a volte sento la fatica della malattia della malattia cronica no però adesso è vero sono serio in questa cosa si fa sentire no però devo dire che il lavoro sul proprio carattere sul proprio modo di porsi con gli altri io ho sempre avuto un po' a volte un po' di scatti di ira di roba e in politica te li puoi permettere poco perché quello che fai rischi che venga è bello è bello imparare qualcosa su se stessi anche in età più adulta io sono però ancora in una fase intermedia cioè riconosco quando mi incazzo non ho ancora trovato il modo di fermarmi come si dice andate da uno bravo devo iniziare un percorso di di analisi e allora grazie mille davvero a Mattia grazie a voi grazie grazie a voi grazie a voi grazie anche a voi noi ci risentiamo alla prossima grazie a voi